Questa volta Gianni Morandi l'ha combinata grossa sul suo attivissimo diario di Facebook. Mentre la moglie Anna era assente, infatti, il cantante ne ha approfittato per un aperitivo insieme all'amico Sandro in un bar di Bologna e ha commentato lo scatto scrivendo 4 agosto, Bologna, zona della Cricca, mi piace questo bar, c'è gente simpatica, anche le bariste. A parte di oltre 37.000 like, il sorridente Gianni ha attirato anche qualche commento sospettoso da parte di utenti che lo hanno definito Marpione, leggendo nel suo post una particolare simpatia per le ragazze dietro al bancone. A noi francamente sembra difficile, ma Gianni Morandi è stato al gioco e come sempre ha risposto ad ogni commento con la gentilezza che lo contraddistingue. Un utente per esempio lo provoca scrivendo Gianni, se non rispondi, dirò ad Anna che ci provi con le bariste con i tuoi occhi da Marpione. Alla luce di tante illazioni, seppur benevole e ironiche, almeno speriamo, chissà se Gianni Morandi si darà una calmata con Facebook e prima di pubblicare una foto ci penserà due volte.